Annunciamo il nostro voto contrario, siamo fortemente delusi non solo perché non sono state date tutte le informazioni, le risposte, le delucidazioni che abbiamo pur richiesto, ma soprattutto perché sono confermati tutti i nostri timori. Il disavanzo della sanità, infatti si attende un trasferimento straordinario dello Stato nonostante le enormi somme trasferite hanno provocato un buco consistente tra i più alti in proporzione dell'intero Paese. In secondo luogo perché il taglio dei 7 milioni del trasporto pubblico non è stato ripristinato e con quel taglio rischiamo un enorme debito fuori bilancio anche per l'anno 21. Ancora una volta non ci convincono come hanno utilizzato le cartolarizzazioni a scadenza. Grazie al piano di rientro della passata legislatura nel 2022 si sarebbero liberati 41 milioni di euro per la scadenza di tutte le cartolarizzazioni. 41 milioni di euro che sono già spariti nelle maglie delle leggi omnibus che addirittura hanno in qualche modo fatto pesare anche agli anni successivi. Sono dunque troppe le informazioni carenti, le mancanze di risposta e i dati allarmanti per farci dire assolutamente che il nostro voto è contrario rispetto all'assestamento di bilancio e credo che anche il bilancio di cui andremo a discutere tra qualche giorno purtroppo dovrà accusare il colpo in ragione anche di questi numeri che ci stanno evidenziando.